Una nuova idea geniale di Dixa24, che puoi applicare veramente dove vuoi in pochi secondi e avere una vera lampadina ma senza fili e senza impianti di nessun tipo. È 100% sicura anche per i bambini. È la lampadina portatile senza fili rivoluzionaria. È perfetta per tanti lavori domestici e anche durante le riparazioni. Nei sottotetti e nelle cantine dove spesso non c'è una lampadina, da oggi hai risolto il problema con la lampadina portatile senza fili. In ogni tipo di armadio è la soluzione. Nei sottoscala è perfetta. E ancora sotto il lavandino è quello che ci vuole. Nel ripostiglio degli attrezzi è l'idea veramente risolutiva. Ordina subito questa offerta e riceverai due lampadine portatili senza fili complete. Ne avrai due complete a casa tua. Ordina adesso in questa pagina. Quante volte ti sei trovato in quegli spazi della casa dove non c'è una lampadina tradizionale e avresti voluto invece una luce stabile, fissa e ben funzionante? Ora c'è la soluzione a questo problema. Dixa24 ti presenta la lampadina portatile senza fili. Funziona esattamente come una lampadina collegata alla normale rete elettrica, invece è completamente portatile, 100% sicura, è infrangibile e la puoi applicare in pochi secondi veramente dove vuoi. Ripostigli, armadi, capanni degli attrezzi, sottoscala, sottotetti e ovunque hai bisogno di una luce fissa ma non c'è l'impianto elettrico per una normale lampadina. È un'idea veramente geniale. Ordina subito questa offerta e riceverai due lampadine portatili senza fili complete. Ne avrai due complete a casa tua. Ordina adesso in questa pagina. Ordina subito questa offerta e riceverai due lampadine portatili senza fili complete. Ordina subito questa offerta e riceverai due lampadine portatili senza fili complete. Ordina subito questa offerta e riceverai due lampadine portatili senza fili complete.